Pescara e Teramo sono state inserite nel girone B, nessuna sorpresa dunque nel consiglio direttivo di Lega Pro che si è tenuto stamani. Nel girone C c'è una lettera X che andrà ad una tra Pistoiese, la designata del Consiglio federale, o Fano che attende l'esito del ricorso presentato al collegio di garanzia del CONI. Delle 19 squadre, oltre alle due abruzzesi, sono ben sei le toscane che possono arrivare a sette, Carrarese, Grosseto, Lucchese, Montevarchi, Ponte d'Era e Siena, quattro dall'Emilia Romagna, Modena, Cesena, Imolese e Reggiana, tre marchigiane che potrebbero salire a quattro, ancora Matelica, Fermana e Vispesaro e poi una Ligure, Virtus Sentella, una Umbra, il Gubbio, una Laziale, la Viterbese ed una Sarda, l'Olbia. In queste settimane sotto sotto in tanti hanno sperato nell'inserimento delle due abruzzesi nel girone B, quasi facendo intendere che sia più semplice del C. Un pensiero che però può essere fuorviante, è vero che nel girone C ci sono piazze di un certo prestigio su tutte Bari, Palermo, Foggia, Avellino e Catania, ma come dimostra l'ultimo campionato questo non vuol dire automaticamente fare squadre altamente competitive. Un vantaggio certo è quello logistico, si evitano trasferte molto lunghe, Sicilia e Calabria in particolare, ma nel girone B ci sono compagini tecnicamente attrezzate e lì sono confluite tre delle quattro retrocesse dalla B dello scorso anno, oltre al Pescara anche Entella e Reggiana. Insomma sarà un girone sicuramente molto impegnativo per il Pescara che vuole essere protagonista e punta ad un pronto ritorno in serie B e per questo se la dovrà vedere con le altre retrocesse e con un Modena che sta investendo tanto. Per il Teramo che dopo il ridimensionamento attuato dalla proprietà, anche alla luce dei tanti mancati rinnovi e delle eccessioni fatte e da fare in questa sessione di mercato ha come principale obiettivo quello della salvezza. Un Teramo che ritrova il girone B dopo due anni fatti in quello meridionale, in pratica sarà la prima volta nel raggruppamento centrale per la proprietà Iachini, dopo che per sette stagioni dell'era Campitelli, dalla 12.13 alla 18.19, tra seconda divisione e C unica, aveva sempre disputato il girone B. Fatti i raggruppamenti, questa sera fare i puntati sulla presentazione dei calendari a partire dalle ore 19.